Stefano Ciaurelli, numero 8, Grama Florin, numero 2, Sviucracium, numero 4, 0, Pro Vitali, numero 7, Aquilani, Stefano, numero 3, Clemente Palmieri, Vincenzo, numero 8, Marco Poggia, diretto il confronto, dirigerà appunto al confronto, Marco Calderali della sezione Opes di Latina, buon divertimento. Stefano Ciaurelli, ripartenza veloce, da parte di S. di Figueroa, con Vilani, c'è la partita di Vilani, con il sinistro la parata, da parte di Ceccano, avanti il vostro, il pallone, la ripartenza del Vira Reale, se ne va con Politi, che va alla confusione con il destro, il diagonale vincente, di Politi, avanti, Vira Reale, 1-0, il gol, numero 10, Politi, Il tiro di Calderali sulla barriera, ci resta sull'1-0, il freccio di Palmieri, 1-1, Poggia, si accentra, andare sul destro, una confusione, Vita, riesce a mettere un calcio d'angolo, Fino in fondo, la gran parata, di Vita, Si ne va in area di Corifoggio, per me è messa al centro, la conclusione, sul fondo di Col... Il tapin di Gramaflorin, colpo di testa di Krasium fuori di poco, fa la barba al palo, le squadre in campo sono pronte, si torna a giocare. Si comincia, si trova una Quigliani, subito un tunnel, se ne va a sinistra, Quigliani spara con il sinistro, subito, se il programma, il finte, il pallone per il piano, che non passa per Krasium, che va, il suo primo destro, e trova l'Europoggio, il 3-1, prima per Provitalli, appoggia per Krasium, con il destro, per Foggia, Vita, risponde per anche la Foggia, Marcelletta per Foggia, ci prova due volte la sua... Quigliani, con l'effetto, bene per Ciaurelli, che sta, lo trova poi, per Ciaurelli, spara altissimo, da ottimo, per la sua... Martelletta, la finita, Martelletta, la finita, Martelletta, il Miracchio di Vita... Per Ciaurelli, per Ciaurelli, per la continuione male, allarga a terra, invece bene per Aquiliani, poi il passione autoreto, un bravissimo gioco, attaccato, 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 attaccato! E qualza, gran voto! Avanti per Ravigliani, di testa a nasconda, per Krasium, con il destro, e trova la porta, si decidiva, avanti 3-1, parte del cross, Grama, la grappa da in cercano! Inizione annale, 3 per Grama, sui Krasium, mette dentro il 4-1. Krasium, da sinistra, Krasium, grazie per la Quilani, si perde il pallone, Antre Grava, prova la confusione! 5-1, la sfida! Arriva il triplice Pischio, che decreta, fine delle ostilità con la ST Futurati.